Abbiamo qui stasera con noi il 50% dell'equipaggio recentemente vincitore al Fettunta, ovvero Diana Ramacciotti, che ve la indico qua alla mia sinistra. Ciao Diana! Ciao! Dunque, il problema è che, come ben sapete, l'Emiliano Luciano Darcio è un po' lontano dalla nostra sede dove registriamo e dalla Toscana. È con noi, diciamo così, in maniera non figurata, ma col pensiero e poi viene sostituita dal degno 50% del suo abitacolo, che al Fettunta ha segnato la sua prima vittoria assoluta. Ma io non ti chiedo questa cosa, ti chiedo esattamente come sei arrivata a correre con Luciano Darcio. Mi ha chiamata Ciocorzo. Mi ha chiamato lui? Sì. Lui è famoso perché corre con navigatrici? Donne. Beh, ovvero, navigatrici. No, no, corre anche comunque con Paolo Gozzo, con il quale ha fatto moltissime gare. Quindi dai, non sempre... Quanto tempo prima ti ha chiamato? Per il Città di Massa mi ha chiamato circa... neanche una settimana prima. Cinque, sei giorni prima. Quindi, fondamentalmente per te, no problem, Pietra Santa, Massa, sei andata lì tranquilla. Invece per il Fettunta giovedì sera. Tanto lo conosco, io lo conosco già a memoria, vero? Infatti... Le notte ci sono già? Esatto, io avevo la valigia pronta per andare a Monza e ho diruttato la mia trasferta. Hai fatto un più stop e hai detto salve. No, comunque è stato... per chi non è stato nel Chianti Fiorentino, lo scorso weekend, devo dire che si attendeva... A giovedì e a venerdì si attendeva una gara di quelle belle scivolose, proprio come la vera Fettunta. Ok? Invece, domenica mattina, questo sole terzo, questo cielo blu ha fatto la sua comparsa, sembra fosse un miracolo. E voi ne avete date di santa ragione, ve le siete date di santa ragione. Perché avete vinto meno di un secondo, quindi nove decimi. Nove decimi, sì. Come ho detto a Soravia, non è che ci ha dato un filo da torcere, ci ha dato un gomitolo da torcere, ecco. In effetti è stata una bella sorpresa a Soravia, eh? Sì, sapevamo che andasse molto forte, ma io devo essere sincera, non credevo in questo modo, perché noi non ci siamo risparmiati per niente proprio, ecco. Beh, poi di solito il buon Luciano, come mi dice spesso, io vedo subito come vado alla prima prova. Vado esattamente come un fulmine nella prima prova e poi mi ha raccontato, poco prima dell'intervista finale, che non era stato ancora il massimo, perché non si fidava molto delle sue gomme dietro, perché non erano entrate in temperatura, era ancora un po' troppo freddo, gli ha fatto una modifica, gli ha fatto qualche intaglio in più e dopo invece piaceva, la macchina reagiva come gli piaceva. Esatto, abbiamo fatto la prima prova, eravamo Soravia, Matteuzzi e noi molto vicini in meno di un secondo, poi sulla seconda prova abbiamo attaccato molto, prendendo anche qualche jolly. Eh beh, insomma, questa fa parte del gioco. Ci sta, ci sta, ci sta, e lì abbiamo preso un pochino di margine, perché se ce la giocavamo a decimi, abbiamo dato comunque al secondo due secondi e mezzo, che comunque è un rally. Poi ho visto, vi ho visto, a parco assistenza delle undici e qualcosa a Sambuca, avete fatto quell'intervento lì, che ha notevolmente... Dico, un po' le gomme dietro... Ha migliorato la vettura e poi nelle ultime due tutto quello che c'era... Sì, sicuramente la stiamo giocata. Le gare, le gare sono così. Comunque sono belle, perché se pensate che nove decimi su 36 km di speciali che hanno fatto, è veramente un battito di ciclo. Eh, sull'ultima siamo entrati, che noi avevamo un secondo e nove di vantaggio su Soravia, e lui sull'ultima c'è stato un secondo, quindi... Quindi quando hai visto, quando vi siete scambiati i tempi, cos'hai detto? È fatta? Eh, io ero lì, partivo per prima perché si usciva da riordino in ordine di classifica, quindi sono uscita dalla prova, avevo già fra un po' il telefono, ma la stavo lì a giorno, a giorno, a giorno, non usciva a sto tempo. Quando poi è uscito ho detto, ce l'abbiamo fatta. Beh, insomma, è bello vincere, far la salute è sempre una bella cosa. E poi è bello comunque battagliarsela fino proprio all'ultimo metro dell'ultima prova, ecco, fa ancora più piacere, ecco. Questo è vero. C'è però, per i precisi, alcuni hanno voluto sottolineare che il vincitore morale non siete stati voi, ma Alberto Salvini con la Porsche, perché in effetti lui per qualche secondo è ancora andato più veloce. Quattro secondi. Però non si prevede una classifica assoluta, ma suddivisa fra moderne e storiche, quindi il senese Salvini ha vinto con la Porsche di Balletti, ha vinto la classifica dello storico, e voi con la vostra Clio Williams vi siete... Sì, certo, sono un po' diverse. No, comunque, diciamo così, si ragiona per assurdo, ma anche per assoluto. Sì, sì, ma comunque ha fatto una super gara anche lui. Il buon Alberto poi dopo è stato sul palco e ve l'ha detto. Comunque voi siete arrivati secondi, perché... Cioè, è bella ancora questa rivalità. È vero, infatti ho detto, non mi hai fatto fare l'assoluta neanche a questo giro. È dieci anni che l'aspetto. No, è vero, è carinissimo, è bello, perché c'era un bel cameratismo, c'erano dei visi molto rilassati, ho visto anche gente che finalmente corre e si diverte. Sì, 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 infatti anche con Soravia abbiamo fatto tutta la gara col suonavigatore, ci prendevamo in giro, è stato veramente molto divertente. E poi anche la lotta per il terzo posto è stata veramente combattuta, perché fra Bolognesi e Matteuzzi, proprio se la sono data anche loro sull'ultima prova. Sì, Matteuzzi è partito molto forte, poi probabilmente ha avuto qualcosa che... Non lo so, sul navigatore mi ha detto che si è un po' perso. Eh, succede anche questo nelle gare. Cioè, è partito proprio a bomba, che hai fatto dei tempi mostro, purtroppo succede... E poi invece è lì il cronometro è pietoso. Eh, poi... Appena molli un attimo. Una gara così corta non hai veramente margine. Ecco, tu, una cosa che mi fa piacere dire è che, dovete sapere, lei è navigatrice, vincente, tutto quanto, eccetera, ma odia guidare. È un parossismo, però è così. È vero. Come mai? Oggi detesto proprio il sedile di sinistra. Infatti io dico sempre che quello di destra mi si addice io... Cioè, essere trasportata. Se domani io vincessi al Supriano Lotto, non è che vorrei, chissà cosa, una macchina con l'autista proprio sarebbe... Dove gli dici vai, eccetera. Vabbè, insomma, oh, queste sono le peculiarità. La vera navigatrice, cioè lei si mette al sediolo di destra, tranquilli, fa tutto quello che deve fare, basta che non gli date un volante in mano. Certo che la tua prima gara e la tua prima vittoria l'hai fatta ben dieci anni dopo la tua prima gara. Sì, avevo tutte le posizioni dell'assoluta, mi mancava quella lì. Beh, insomma, è già una bella cosa, però. Sì, sì. In dieci anni di licenza ti sei fatta tutte le posizioni dell'assoluta. Ora praticamente sei pronta per... Infatti io... Iniziare con le repliche. Infatti io dicevo sempre, quando ho iniziato dico, quando farò la prima assoluta smetto. Infatti il primo messaggio della mia mamma è stato... Mantieni la parola? No. Mi rimangio la parola. E vabbè, insomma, ragazzi, ma è così, perché poi dopo, quando si assapora il fatto di esserla in alto, è veramente un bel gusto. La vittoria ha veramente quel piacere, che altre cose... Insomma, la passione, come diceva il buon Ferrari sempre. Ecco, più che la... Più che raccontarla, bisogna viverla. Esatto, più che la vittoria è proprio la passione, perché comunque ogni gara, a prescindere da... Quando vedi che tutto va a compimento, e che tutto funziona bene, e che sei nel tuo giorno, e che alla fine vinci, dici, oh, hai speso il tuo tempo bene. Sì, 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 però comunque a prescindere dal risultato, io corro, perché amo correre, quindi che si arrivi primi, che si arrivi a metà classifica, che si arrivi ultimi, che si... L'importante è che comunque alla base ci sia il divertimento e il piacere di fare questo sport. Bene, allora, hai finito alla grande il 2017, oppure c'hai ancora il ciocchetto? No, credo di andare a Sperlonga. Ah, Sperlonga, bello comunque. Sì, sì, è il quarto anno consecutivo che la faccio con Federico Ferri. dove ci sono tanti toscani che vanno a farla. Infatti vado a farla con un toscano. E il fatto stesso, mi dicono che è una gara dove c'è un percorso molto carino, molto bello da interpretare, insomma, solo positività. Poi, Sperlonga mi ha detto anche che è un bel posto. Bellissimo, è sul mare, c'è un riordino a Gaeta che è bellissimo, poi gli organizzatori sono persone che ci mettono proprio il cuore e si respira proprio un'atmosfera di festa. Ecco, Sperlonga è una festa. È una festa del motore? Sì, esatto, ma è proprio così. Bene, anche perché il solito ciocchetto invece è, come dire, è lì tranquillo, sempre all'interno delle stradine. Sì, diciamo che forse è un po' più conosciuto. Sì, sì, no, no, beh, io mi si è presentata all'occasione... Indubbiamente più battagliato, magari. Sì, no, io mi si è presentata all'occasione di Fettunta è quattro anni che la facciamo con Federico Fetti, i primi due anni l'abbiamo fatta con una Mitsubishi, lo scorso anno con la sua RS, con il quale poi ha vinto la classe, i campionati al Fettunta, l'Open Rally Day. Ha vinto l'Open Rally Day e quindi ecco, come premio vediamo di tornare a Sperlonga un'altra volta. Insomma, non è certo tipo la Diana che attacca subito al casco al chiodo e va tranquilla verso Natale, anzi, a proposito, la prima domanda che gli ho fatto a Telecamere Spente era come mai si chiama Diana e mi ha detto che sua madre era una attenta osservatrice in televisione dei Visitors quindi fa il famoso simbolo che vuol dire vittoria questa volta e su questo sei tranquilla. E con questa marchettata esagerata direi che abbiamo concluso il nostro tempo e abbiamo presentato una ragazza simpatica, sorridente e ora anche vincente. Quindi si sposa benissimo con il discorso motoristico toscano.